Ben trovati dall'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, andiamo a guardarci il programma ufficiale del galoppo che scenderà in pista sabato 2 ottobre. La 33esima giornata offre 6 competizioni, apertura alle ore 14.55. La prima condizionata al premio Viola è alle 16.05, 11.000 euro di Montepremi per cavalli da 3 anni oltre sui 2.100 metri in pista piccola. Poi si chiuderà alle ore 17.50 con un handicap da 9.900 euro che è una corsa a tris quartè quintè, peraltro ingarbugliata, veramente difficile da pronosticare con ben 14 soggetti al via. Partiamo però dal punto di vista cronologico col premio Orchidea, guardiamoci il campo partenti di questa reclamare che si confronterà sui 1.200 metri in pista piccola con cavalli di 2 anni. I giovanissimi che trovano ancora una volta come avversario innanzitutto Amo Azzurra, questa femmina di Postiglione che è rientrata con successo e che è timibilissima. Poi c'è una novità romana su cui poniamo il punto interrogativo del signor Corrado Consiglio, Cultra. Poi il numero 3 di Fixi U dopo un buon debutto non si è ancora ripetuta, quindi Login, Siracusa ancora buono e un cavallo di buoni mezzi. Princess Josephine che è discreta, aspetta progresso, attenzione a Secret in the Dark che è la valida alternativa da Amo Azzurra, affidabile. Quindi Star Alpha, una corsa soltanto Siracusa ancora poco e Walls of Love va per una piazza. Dal debutto di maggio fatto bene con podio poi non si è più ripetuto ma potrebbe risvegliarsi. Vediamo cosa ne pensa a Mr. Valentino Ficara che è impegnato con la sua principessa. Secondo me, oddio, vedere così la categoria come si sono espresse mi sembra che è Amo Azzurra un po' soprattutto visto l'ultima. La cavalla potrebbe essere l'avversaria a Secret in the Dark, non regolarissima, però sulla velocità secondo me può tornare a dire la sua. Princess Josephine rientra, cavalla un po' esilina però bene, in questa compagnia potrebbe lottare bene per una piazza. Corsa aperta? Sì, due anni sempre. La seconda competizione del premio Margherita è una Vendere sui 2100 metri in pista piccola, cavalli di tre anni e oltre. Abbiamo il numero uno di Fox Singi, non raccoglie molto dopo il 10 di aprile, rientra su distanza però chi gli piace. Quindi Gail Worts, che invece è uno dei papabili alla vittoria, torna fiducioso perché a vendere può sicuramente in questo contesto far benissimo. Jamming Master è una novità che non corre dal 2020. Laguna Drive invece è questo dieci anni che non tramonta mai a Siracusa. Vince peraltro nell'ultima competizione, può migliorare appunto sui 2100 metri in pista piccola perché la precedente aveva fatto competizione sul dirt. Rientra anche dal 2020 il numero 5, è un allievo di Brancato che presenta anche Poeta Segreto che non corre da gennaio 2021. Start of Wales non è fuori dai giochi, è ben finito l'estate, adesso rientra, scusate, è ben all'inizio dell'estate e rientra. E quindi poi l'altro grosso scoglio da superare in questa corsa è che è il nome di Tell William, regolare ed utile a grossissime chance. Quindi 8, 2, 4 sembrerebbero i cavalli con più affidabilità. Vediamo cosa ne pensa Enzo Guerrieri che presenta proprio Gail Worts e Valentino Figara che si impegna con Laguna Drive. Andate con Gail Worts, come sta e come è inserito in questo campo partenti? Questo è un cavalluccio buono, è il cavallo che ha fatto le categorie migliori, però il cavallo ha avuto un piccolo problema, aveva preso 5 mesi fa una pietra, abbiamo dovuto aspettare, adesso lo prendiamo come un rientro, però per rientrare il cavallo sta bene. Il contesto? The Williams è terzo all'ultimo con quelli buoni, secondo me è il cavallo da battere lui. Mi piace a me qua anche Poeta Segreto come sorpresa. Presentate Laguna Drive 10 anni ma sempre regala emozioni. Sì, sì, il cavallo bene, in queste categorie si esprime sempre bene, distanza è tracciato benissimo, mi sembra che nel periodo Hotel William sta facendo molto bene, per me il cavallo da battere insieme a Star Hop Wells e attenzione anche a Gail Worts dovrebbe essere in ordine. E andiamo alla condizionata del premio Viola, 2100 metri in pista piccola per cavalli di tre anni e oltre dove sono otto soggetti alla via. Tralasciando Relativity, che mettiamo il punto interrogativo perché è una novità estera che si presenta qui a Siracusa, gli altri li conosciamo anche bene. C'è la linea dei tre anni con Brazilian Jet che rispetto da Die Secret e Deron Kitt forse è il migliore dell'otto, ma dovrà vedersela con sicuramente cavalli dalla portata di Mortal Romance e Delta Ball. Sono queste le basi della competizione, Delta Ball ritorna vittorioso da giugno e luglio in handicap principale, poi Mortal Romance invece è in cavallo dalla qualità indiscussa, adesso rientra, spesso si sono trovati in match, vedremo chi la spunterà. Canoing, due corse Siracusa e due secondi posti adesso a Prode Nerva, chissà se migliorerà ulteriormente, è l'altra mina vagante della corsa e Neleta, che ha una corsa sulle gambe rispetto agli avversari, ha fatto una bella performance in sabbia e vedremo come si comporterà. E allora parliamone con Enzo Guerrieri. Neleta abbiamo fatto un terzino quando l'abbiamo riportato da Milano, adesso ha preso più condizione, c'è un po' di forza in più perché era arrivato un po' sfruttatino di muscolature e cose varie, che si è ripreso un po', penso che correremo meglio di quel terzo che abbiamo fatto, di cui troviamo anche dei tre anni, che ancora penso che i tre anni con gli anziani gli viene un po' duretta per batterli, anche se c'è questo brasiliancetto che è un buon cavallo, anche se è un tre anni. I cavalli sono in Mortal Romance, da battere, che è il favorito sicuramente della corsa, poi c'è il Taballe che ha fatto l'espluare a questo cavallo, cambiando scuderia, ha vinto anche l'handicap principale, come ben sappiamo, Neileta e poi tutti gli altri. La quarta competizione è il premio Geranio, un handicap di minima, scatterà le 16.40 sui 1500 metri in pista grande per cavalli di tre anni oltre. Dieci soggetti che frequentano il campo partenti e la linea da seguire dovrebbe essere quella dettata da Blue Iram, il numero 5 dello schieramento arriva primo e rientra con vittoria, su C-Shunter che comunque resta positiva e non Alfonso che comunque c'è. Rusalka non brillantissima, Common Black non raccoglie, Ceffone rientra dopo e dovrà impegnarsi, Golden Pulse prova a rientrare, One Day Sunday ha fatto vedere qualche cosina fine luglio, vedremo se è venuto avanti in questi lavori, stentato Star Trout ha comunque la sua chance e poi il numero 10 di Mexico Point, Poco a Siracusa ha fatto due corse a maggio ed aprile e adesso rientra. Sentiamo Valentino Ficara che ha doppia chance con One Day Sunday e Blue Iram soprattutto. Beh, Blue Iram dove se piovere calo sembra che cambia le categorie, sotto la pioggia il cavallo, se piove è il cavallo da battere, ha ancora un colpo in canna, secondo me con questi cavalli se piove può rivincere. Chi è One Day? One Day Seller è un cavallo molto bene, un cavallo un po' caratteriale, anzi direi molto caratteriale, però molto bene l'ultima, pista grande e abbiamo aspettato fino adesso per scegliergli proprio le corse a pista grande. E il campo partente? Il campo partente io direi sempre, io direi su Rusalca, vedo che Common Black comincia a scaricarlo un po', non Alfonso, è un campo partente abbastanza equo direi. E andiamo alla quinta competizione, il premio Gladiolo è un handicap sul miglio di pista grande dove ci sono cavalli di tre anni che si confrontano fra loro. Dovrebbe essere la volta di Mr. Ragona che rientra e vuol farsi protagonista ma troverà tanti ostici avversari. Innanzitutto Special Lens e Njiba che comunque dovrebbero anche migliorare, Special Lens ha fatto un'ottima presentazione qui a Siracusa, cambia tracciato, prodono sul dirt ma veramente si è presentato alla grande. Rientra Tamalite che non è escluso così come anche Wakanda Bo, Solar Orange, Rientrano Taiki e Laguira, Laguira è attesa anche in progresso, è una competizione che potrebbe vedere anche i paesini, sfruttare la perizia e quindi farsi trovare più pronti. Dancing Evolution e Uncertain Distance sembrerebbero un po' più lontani dagli altri. Dancing Evolution conosce già Siracusa, ritorna e vedremo con quale chance, più arduo è il compito per il numero 10. Quindi sicuramente i pesi più alti sono quelli più accreditati, vediamo cosa ne pensa una voce fuori campo come il proprietario Enzo Guerrieri. Il cavallo che si vocifera che dovrebbe vincere è Mr. Ragona che aspettano questa vittoria da tanto tempo, questa dovrebbe essere la sua corsa, però c'è Njiba che sicuramente non gliela regala. Poi c'è Laguira, ha corso male le ultime due corse, ma ha una buona cavallina, io l'ho vista lavorare, a me mi piace tanto sta cavallina. Tra l'altro ha il pesino. Sì, a parte il peso, ha anche una cavalluccia che nel passato io l'ho vista correre bene bene, o magari non ha gradito i terreni, non lo so. Qualche altra alternativa? Sì, io Tamalai ti metterei. E andiamo all'ultima corsa, il convegno di galoppo di sabato si chiuderà con una corsaccia, perché è una trisquartè quinte che presenta sui 1200 metri di pista piccola, quindi su una distanza brevissima, 14 soggetti al via che hanno avuto buona forma, buona condizione già al rientro, o che hanno della qualità e dei mezzi che possono appunto far temere gli avversari. Sono cavalli dai tre anni ed oltre, apre un Exotic che anche con 64 kg non è escluse dei giochi, continua Madigi che vuole e aspetta il pesante, anche perché sarà un convegno condizionato da eventuale pioggia variabile. Se pioverà, Madigi avrà le sue chance, se invece il terreno sarà soleggiato e si asciuga bene, e il terreno è buono magari per altri come Banco L'Experience, come Belongue che potrebbe anche sfruttare questo peso, 54 kg e mezzo. Quindi Presbury Park che rientra, chissà se ha condizione e si ricorda chi è, Banco L'Experience vi dicevo, ne parleremo anche con Enzo Guerrieri alle sue chance, poi ci sono soggetti che si presentano bene, che hanno corso già tra di loro e che sicuramente possono far piazza. Alfie Solomons è positivo e pericoloso, Cicaloca c'è perché ha dimostrato di esserci ogni volta sempre presente. Questa novità del numero 7 di Zappel a cui porriamo punto interrogativo dovrà dimostrare di adattarsi sulla nostra pista. Dancer vince in sabbia, una chance anche per American Coffee, Osho è infrarosso che si sono presentati comunque in forma, Tipo Of Tonga ha una bella piazza anche dietro Cicaloca, Belongue che rientra e a luglio vince proprio sui 1200 metri in pista piccola, proprio sul Alfie Solomons è infrarosso, quindi Sociality che è rientrato vincitore sui 1300 metri in sabbia. Quindi ci sono dei cavalli che si presentano in condizioni e in forma, altri che hanno sicuramente più qualità ma che dovranno fare i conti con quello che è il tipo di terreno. Facciamo fare il punto, sia mister Valentino Figara che ci prova con Exotic anche se è pesantissimo in Perizia e con Enzio Guerrieri che ha la sua chance con Banco L'Experience. Ha una corsaccia molto aperta, tante linee, tanti cavalli molto bene all'ultima, Exotic carico, però non direi fuoricorsa, secondo me il cavallo sull'erba potrebbe anche dire un pochettino meglio della sabbia. Se piove anche qua mi sembra che a Madigi soprattutto, forse leggermente corta 1200, però se piove a Madigi soprattutto e poi non da escludere Cicaloca, Osho appena vinto l'ultima, io direi che ci stanno un pochettino tutti questa corsa qua. Base quindi? Ma per me, oddio, sempre legati al terreno, se piove la base rimane secondo me a Madigi, poi Banco L'Experience è molto bene anche lei l'ultima, Cicaloca forse 4 di fila, però è una cavalla anche lei sempre viva, sempre accesa, io la base qui non saprei proprio che cosa dire sulla base. Bilonghiu forse è l'ultima di quest'estate, aveva vinto l'ultima, un handicap simile da 9 a 9, potrebbe essere lei la base, 54. Sì, Banco L'Experience è fresca vincitore ed è una vendaruccia, la cavalla rientrava da 4 mesi, si è espressa bene, però qua c'è una corsa che ti dico, ci sono 5-6 cavalli che all'ultimo hanno vinto tutti i 5-6, per cui è una corsa veramente con un punto interrogativo grosso. Però la cavalla sta bene, speriamo che corre bene, poi dipende tutto dal terreno, perché qua ci sono 2-3 cavalli che se non piove sicuramente non faranno la prestazione, ma se piove faranno la sua prestazione. Allora facciamo finta che piove, il terreno è bagnato, chi vince? Amadici. Insieme a? A me all'ultima mi è impressionato il Clusotic. E invece se non piove il terreno è buono? Vinciamo noi. Banco L'Insieme A? Onestamente mi piace Belong You. Non mi resta che darvi l'appuntamento col Galoppo a Siracusa per sabato 2 ottobre dalle ore 14.55 in poi. Arrivederci.